La riforma degli enti locali, il disegno di legge Maccanti, è legge dopo l'approvazione in Consiglio. E questa è la risposta della Regione al decreto Spending Review che impone tagli e razionalizzazioni. La prima volta che i sindaci dei 1206 comuni piemontesi hanno sentito la minaccia di accorpamento fu alla fine dell'estate 2011, quando il governo Berlusconi, già in agonia, cercò di recuperare dal crack imminente con una legge finanziaria che portò in piazza a protestare migliaia di primi cittadini. Ora per i sindaci la minaccia è realtà. Entro tre mesi i comuni di pianura sotto i 5.000 abitanti e quelli montani sotto i 3.000 dovranno imparare a gestire in forma associata almeno tre servizi per i cittadini. In Piemonte sono 1077 le amministrazioni interessate dal provvedimento e la Regione, dopo mesi di consultazione, ha studiato una riforma che sia da guida nel difficile percorso in arrivo. Che sia contabilità, urbanistica, rifiuti, pulizia o scuola, poco importa. Bisogna scegliere tre funzioni fondamentali da condividere per almeno tre anni fino a raggiungere una popolazione compresa tra i 10.000 e i 40.000 abitanti. Su ogni unione vigilerà la Regione in modo che siano garantiti l'equità e il rispetto delle norme. Il testo di legge riconosce il ruolo centrale del Comune come primo referente nell'erogazione dei servizi ai cittadini e individua la provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta. Sono ufficialmente cancellate le 21 comunità montane del Piemonte. A loro posto sorgeranno unioni montane o convenzioni fondate non più su criteri territoriali ma su volontà dei sindaci e delle popolazioni. Ora aspetta gli amministratori locali presentare nei prossimi 60 giorni proposte ponderate di aggregazione consapevoli del fatto che la legge ridisegna l'assetto del territorio dei prossimi decenni e che ogni scelta comporterà delle conseguenze per i cittadini.